Iniziativa Mare Sicuro e operazioni di polizia giudiziaria per il rispetto delle leggi in materia di utilizzo e fruizione del mare e dei suoi fondali sono le attività che in questa estate hanno contraddistinto l'azione di prevenzione e contrasto degli uomini delle capitanerie e dipartimenti marittimi della Marina Militare Italiana. Temi toccati anche questa mattina durante la visita istituzionale alla capitaneria di Porto di Pesaro da parte del direttore marittimo delle Marche, l'ammiraglio Ferrara la cui presenza a Pesaro segna un riconoscimento di alto profilo professionale per gli uomini e le donne in servizio ed il loro comandante. Noi abbiamo dei compiti di polizia giudiziaria che come sapete sono riferiti alla repressione dei leati marittimi, poi alla tutela dell'ambiente marino, alla tutela delle risorse ittiche e più in generale comunque a quello che può essere la condotta illecita nei confronti dei bagnanti oppure delle regole che sottengono la sicurezza della navigazione. E' un compito anche questo molto importante che svolgiamo con personale altamente professionalizzato, quindi che conosce bene i propri compiti. Cerchiamo di svolgerlo anche questo con intenti non repressivi, cioè andando molto sulla prevenzione e sull'informazione. Quest'oggi è un giorno particolare, la visita dell'ammiraglio rappresenta per voi un momento di grande entusiasmo e soprattutto anche di grande soddisfazione. Assolutamente, è un onore per noi avere oggi a Pesaro il direttore marittimo delle Marche, quale titolare di una compagine che esprime sul territorio, anche su quello pesarese, un'efficace azione di coordinamento di quelli che sono dei servizi fondamentali espletati nel territorio di giurisdizione dal corpo delle Capitanerie di Porto, in particolare un modo per la Capitaneria di Pesaro in diverse attività istituzionali, ad esempio la salvaguardia ambientale, quella ad esempio la tutela della fauna ittica e anche la commercializzazione dei prodotti ittici. Quindi siamo particolarmente onorati di questa presenza. Grazie a tutti!